Primo giorno di scuola, la situazione comunque per quanto riguarda i lavori sulla sismicità e la resistenza sismica è la stessa dell'anno scorso e la stessa di sempre? Sì, la situazione è la stessa, abbiamo però un dossier compilato in cui i nostri uffici ci hanno indicato gli interventi da fare sulle scuole e l'importo dei finanziamenti che noi abbiamo ottenuto sia dal MIUR che da una delibera della legge regionale. Adesso però c'è tutto quanto il lavoro di progettazione che deve essere fatto perentoriamente entro il 31 dicembre del 2018 altrimenti rischiamo di perdere i finanziamenti, quindi ci aspetta un autunno di fuoco. Un autunno di fuoco e si presuppone, anzi ci si augura una prossima primavera di lavori pubblici. Quello me lo auspico con tutto il cuore perché come ben sappiamo i bambini sono il nostro futuro e i nostri bambini devono andare in scuole sicure. Teramo, secondo il rapporto che voi avete in mano, praticamente non ha una scuola antisismica secondo le ultime norme ovviamente? Non ha una scuola antisismica che abbia la sicurezza. Sugli indici, come tu ben sai, c'è una querelle non indifferente su quale sia il valore. Quello che ci preme a noi come amministrazione, lo risottolineo, è che i nostri ragazzi possano andare a frequentare delle scuole che siano sicure non soltanto per i ragazzi ma anche per tutto il corpo docente e non che utilizza quelle strutture. Grazie. 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 Grazie.